L'arbitro che è il signor Marco Pacor è già nel ring la cintura di campione del mondo WKN categoria 53,5 kg ed ora chiamiamo i due protagonisti ovviamente il supervisor di questo incontro sarà ancora una volta Riccardo Lecca ed ora all'angolo blu 21 incontri disputati 20 vittorie ed una sconfitta per lui campione nazionale spagnolo per il WKN per il team Calvet da Barcellona a Spagna Samuel Blackwood Barcellona a Spagna Barcellona a Spagna Samuel Blackwood Barcellona a Spagna contro di lui all'angolo rosso 45 incontri disputati 25 vittorie per lui due delle quali per Capão 19 sono le sconfitte ed un pari campione d'Italia Waco Pro per il professional kickboxing team da Genzano di Roma Italia da Wolverine Emanuele Tenti Manichelli ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti.